Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di L.A. Noire Il mio nome è come sempre Quinton White E quest'oggi continuiamo le avventure sciolitarie di Kelsho Che cerca di farsi la donna di Cole e nel mentre risolvere il caso dell'Elysian Fields Perché Cole ha le mani legate Quindi let's go Senza uccidere pedoni a sto giro magari Ok Dove stiamo andando non lo so onestamente Ma io seguo le bandierine perché le bandierine sono belle Sono bellissime E io voglio tutte le bandierine Uh bello quel palo Ed eccoci arrivati Dove siamo? Appartamento di Curtis Benson Uh E la madonna È un complesso Non è tutto il suo appartamento spero Sì no è un complesso Ok vabbè Vediamo un po' Benson Numero 2 Perfetto Questo è il numero Una E questa È il numero troppo poco O troppo tanto Due e tre Due Ottimo Perfetto Perché sai dall'ingidente Ottimo Oddio mi ha colpito Quindi qua non si guarda nessuna parte Uh Oh yes 2.000 2.000 2.000 azioni Nel valore di 100 Sto leggendo Sto leggendo Sto leggendo 2.000 azioni Del valore di 100 Dole ciascuna E capitale Suburban 3 Di quando Va bene Aspetta Ma ce ne sono di più qua Aha Altre due Jack Jack You've made a terrible mistake Get out What you can Ottimo Quindi ne ha 4.000 di azioni Nella Suburban Ottimo E questo Ottimo Ottimo Che ti aspettavi di trovare, Jack? Sia che ero in sedia con la legione, Curtis Ora vedo perché Ottimo E qua Vediamo Hai delle banane No, eh E questo è l'ossetto? Di chi è quel rossetto, eh? Magari è tuo il rossetto Eh, finocchi Qui non c'è niente Ah Una buona bottiglia Non lo so neanch'io, caro Apriamo qua Salve, signorina Come la va? Porco Giuda Ma stai Ottimo Andiamo a cercare qua Uh, no questo è tabacco Sì sono stigari, ok Dormiamo un po' sul suo letto Chissà se ho messato qualcos'altro A parte questa statua Va bene, parliamo Dai Ovviamente la truffa Certo, Curtis, sei il vice-presidente della firma Perché prendere il rischio? È una stranazione di negozio, amore No Accusiamolo È una stranazione di negozio 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 Ma sono stati La stranazione di negozio Non sono stati È una stranazione di negozio È una stranazione di negozio È una stranazione di negozio E io mi prendere il mio Il rischio È un rischio Tu ti e i tuoi Croni Ah no Informazione, Curtis Business people Who have joined forces To meet the demand for new homes Ah, sì? Cos'è che abbiamo? Accusiamolo You're lying, Curtis They're going to burn those movie sets They call houses And you're carrying the insurance on And how do you prove that, Jack? Così, tesoro Con la polizza Yes Yes Con la polizza And you, Jack Con la polizza You buy green lumber And use it to build house How do you expect it to end? Mr. Monroe Ha a fine reputation for building house What would I know about his choice of building materials? You smug son of a bitch You're lying again It's an insurance scam Pure and simple And how do you prove that, Jack? My assessor wrote the policies on the houses Bam No No I'm the rubber stamp Cazzo This doesn't come back to me Very neat, Curtis Maybe I can't work it out, but Phelps can He may be many things, but he is one of the best detectives the LAPD has ever had Your card is marked, Jack You'll have an unfortunate accident if you don't leave town Your California isn't the same as mine, Mr. Benson Not at all Cos'è che mi sono perso? Sono perso evidentemente qualcosa Ma vabbè Cazzo, 13 anni aveva quella tizia Ma hai dovuto pestarlo un po' di più Ottimo Quindi andiamo da Phelps Cazzo E gli rubiamo la macchina Perché vaffanculo Minchia con le porte che si aprono di là Che sciccheria E via che si va Allora Mi ha sbagliato l'ultima domanda Però non saprei come Forse ti ha sbagliato accusare Dovevo solo forzare Perché avevo così tante prove contro di loro Cazzo se corre sta macchina però Devo fare parecchia attenzione No, non devi spostare No, non vi spostate Montacci vostra Va come fila però Queste case sono tutte marce Di qua E poi qua a sinistra Ottimo Quell'ascolto della bella musica Onestamente Mi piace un sacco questo jazz Barra blues Sempre ho fatto fatica io a riconoscere il jazz dal blues Cioè In alcuni casi Faccio fare ecchia fatica Perché sono molto simili Però questo è jazz Questo è jazz dalla vita Wiii Eccoci qua Ok Va bene Uso l'ascensore Non so perché dovrei andare l'ascensore Ci sono le scale Tung E faccio tipo il moonwalk di lato Perché fa figo C'è qualcosa che vuole o' Che vuole o' C'è qualcosa? E' un bel 4 minuti 29 secondi north 118 degrees 17 minuti 58 secondi west ok ok there's got to be more in these files there's something else in that report I know it hmm insured replacement value for the house is 900 dollars current value of the house and land is 3,500 Christ how many of these dumps are we carrying on the books I have a detective Phelps of the LAPD here to see have a seat Cole where's the go between she's awful easy on the eye for a foreign girl does that private dick petter actually work on anyone Kelso it's not your style you were always a little more direct this is your dime officer would you have helped me if I asked Jack chuck on the shoulder shot of Semper Fi fucker Cole be a man why isn't a woman to do your dirty work you're a cop why do you want my help I thought a PI might be a little more discreet I know Gumshoe I used to be an investigator for this company before your investigation got me fired I'm sorry to hear that Jack I'm sorry about a lot of things is that an apology Cole it's a feeble attempted one yes kicker do you know goal Jack it's a murder case and I need help to solve it so what's it got to do with the lesion fields developments they ran it somehow the flyers keep turning up whenever I find the domestic fire hmm their boosters stiffing GI's for deposits making them wait months for a throw up house they're already making more money than they can count what's turned them into killers so you believe me cat is a diggered this is why you dragged me into the buckwater case look Jack I'm sorry but if not for me do it for some of the poor saps were dying or some of the leathernecks were getting grifted how about a jacket I know you pull you're still beating yourself up over that metal on sugarloaf the metal you think you didn't deserve but you just don't get it nobody deserves a metal it's just the ridiculous situation you find yourself in and how you react to it you think you failed up on that hill but courage isn't a tap you could turn on or off courage isn't permanent it's a tenuous and fickle thing courage and cowardice exist in every man get over it oh come see filósofo I guess I have can you help me Jack I'm thinking about it the hall of records is the place to start ottimo Jack and Cole in una nuova missione contro il mondo evidentemente we want to wait we want to wait we want to wait we want to wait gioco ai videogames da quando avevo oh we are me adesso sono il rete let's play we want to wait we want to wait our leaders which actually our energy today looks like we got out of economic